Salve a tutti e benvenuti a questa nuova avventura, Beyond Two Souls. Allora io sto iniziando il gioco in questo momento, c'è la scelta di poter fare la versione originale del gioco o la versione rivista, con la storia di Jody in ordine cronologico. Io direi che andremo a rivedere la parte rivista invece di quella del gioco originale. Confermiamo, solitaria corporativa, no solitaria, un giocatore, perfetto, allora esperto, occasionale, occasionale non ci ho mai giocato, ok. E siamo pronti a cominciare questa nuova avventura. Sono nata con uno strano dono. La capacità di vedere ciò che nessun essere umano ha mai visto prima. Nella mia testa è il caos. Immagini, suoni, odori. Ricordare mi serve. Per aggiustare le cose successe finora. Per ricordare chi sono. Se dovessi dire com'è successo, potrei cominciare da qui. L'ho trovata sul ciglio della strada, in mezzo al nulla. C'è stato un incidente? Qualcuno le ha fatto del male, forse. Mi dia un nome. Magari un contatto. Avrà un familiare. Un amico. Qualcuno che possa riconoscerla. Ehi. Siamo di poche parole. Se lei non mi aiuta, come facciamo? Così è inutile. Cos'è questa? Una cicatrice? Fermateli, non hanno la minima idea di cosa li aspetta. Ditegli di attendere il mio arrivo. Andiamine, comunicateglielo subito! Mi avete sentito? Dovete fermarli! Idioti, maledetti idioti. Lo so. Stanno arrivando. Un attimo, che sta succedendo? La ragazza di prima. Dove si trova? Un attimo, che sta succedendo? Mi mentebile, non, che sta succedendo? Un attimo, che stai scelendo. Un attimo, che, ne chiamo? Un attimo. Un attimo, che, questa cosa è stata la prima, la prima volta da conoscano qui si tratta di un attimo. Un attimo, che, non ci sono alguna cosa? Un attimo, che, mi sono ancora ancora? Hai, che sono ancora ancora? E' arrivato un po' tardi, mi sa. Mi ricordo che i protagonisti del gioco sono Alan Page e William Dafoe. E William Dafoe ha conosciuto soprattutto per aver interpretato il Gringoblin nel primo Spider-Man con Tobey Maguire. Già, di che cosa hai fatto? Se neanche è il tutto qui, è venito per riuscire al genere. Mi piace delle altre orbite inesperbrazione, non è perكان ibertos child.... Il Giorgio di Giorgio 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 Ecco fatto Oh, ora sei una principessa Niente paura Andrà tutto bene, vedrai Io sono qui accanto Se hai bisogno, ok? Ehi, Giorgio, mi senti? Ok, iniziamo No, Catherine è nell'altra stanza E ha le stesse carte che hai tu Adesso le chiederò di sceglierne una Poi tu ci dirai quale carta ha scelto Allora ci sei? Bene Allora cominciamo Prima carta C'è una stella? Prossima carta Ok, c'è un quadrato Ok, c'è un quadrato Molto bene, Jody Proviamo qualcos'altro Ci sono delle costruzioni sul tavolo Nell'altra stanza Pensi di riuscire a farle cadere? Brava, Jody C'è altro che riesce a spostare? Le pulsazioni del soggetto scendono a 45 battiti al minuto Confermato aumento delle onde teta a 4... Aiden, no! La temperatura dell'ambiente è scesa di 10 gradi Che cosa è stato? Aiden, ho bisogno di te Pare che Aiden sia di pessimo umore oggi Sta giocando con noi Pensiamo all'esperimento Devi smetterla, Aiden Aiden, ti prego Aiden, ti prego Forza Aiden, puoi farcela Ache Aisten, ci prego Aiken, ho bisogno di te ora! Mi ho sbloccato gli ucci. Che servirà? Non si sa. Aiken, ti prego. Basta così. Mi spiace, ma me ne vado. Ok, Jodie. Cara, l'esperimento è finito. La porta è bloccata! Vi dico che non si apre! No, Kathleen, non è chiusa. Forse è solo bloccata. Fatemi uscire! Fatemi uscire! Subito! Calmati, Kathleen. Vai alla porta. Devi fermarti subito, Jodie. Il test è finito. Devi fermarti. È chiusa! È chiusa! Non posso! Non vuole ascoltarmi! Non vuole ascoltarmi! Calma, Kathleen. Arriviamo. Già. C'è qualcosa che... Jodie è in pericolo. Tirandela fuori! Tiraandela fuori! Ma formacello! C'è qualcuno! C'è qualcuno nella stanza! Vi prego! Vi prego! Vi prego! Vi prego! Avvite la porta! Avvite questa mannata a porta! Avvite questa mannata a porta! Avvite questa mannata a porta! È chiusa! Possiamo! Burtiamo la ciocca! Non è una健za! Vi falla! Guardi! Oh! Jodie... È passato, Jodie. è passato... È passato... Hoiammurata la misa che crepata! Non passerà mai. Il corso è schiodano del caos e strangolato Karen. Mamma! Ehi tesoro, non puoi passare le tue giornate alla finestra Perché non trovi qualcosa da fare? Ok ragazzi, io direi che per questo primo episodio per riscoprire Bejon 2 Souls ci possiamo fermare qui Avremo sicuramente altri episodi, andremo più avanti con la storia e vedremo come evolverà il tutto Detto questo, vi ricordo che se non si aspettate al canale di iscrivervi, cliccare sulla campanellina per restare sempre giù sui prossimi video Lasciare un like se vi è piaciuto o un dislike se il video non vi è piaciuto Vi ricordo che in descrizione trovate il link per seguirmi su Instagram e soprattutto per iscrivervi al gruppo Facebook ufficiale del canale Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio Grazie a tutti